E adesso ho l'onore di presentare un gruppo strettamente siciliano. A voi, direttamente da San Catanzo e Cassanissetta, gli dica no! Siamo pronti? Dai, ancora qualche minuto. Ci potrei parlare del brano che stasera ci farete ascoltare. Buonasera a tutti, buonasera. Noi siamo gli dici che no. Il pezzo che adesso vi suoneremo è un pezzo che tratta di un argomento un po' scomodo, che è appunto l'argomento della mafia. Il pezzo si articola in due parti, diciamo. Una prima parte in cui vi è le sensazioni che provo un mafioso quando sta per uccidere una persona. E l'altra parte invece è una riflessione che noi facciamo su quale è il nostro compito da siciliani e quali sono le nostre responsabilità e le nostre colpe. Vi presento il gruppo intanto che è Fisarmonica Enrico Valzone. Al basso Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Io sono Luigi qui in casa, adesso ve ne vediamo un buon ascolto. Allora, con il brano Mani Lorde, a voi gli ziganò! Trottini il fiato, premi il grilletto, stai attento e caldo, mira dritto al petto. Premi il pulsante, arma la bomba, il cambio d'umore sarà la tua tomba. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. Edoardo Priglidera, alla batteria Martino Pantano, al geloncello Graziana Ganardi. La Sicilia è la terra, di chi pensi se ne fosse, ma è grazie alla terra, dove la mafia si combatte. E' terra, la nostra terra, non vale la pena distruggere, con questa guerra nel nostro idare. Il mondo lo vivi solo se sai amare, se puoi ascoltare queste mie parole, confiterò la luna e senti il sole. Il mondo lo vivi solo se sai amare, se puoi ascoltare queste mie parole, e il cuore cominciò a battere forte, così forte, talmente forte, ed un tratto si fermò. Bravissimi, così che no! Daniel, è un po' più alto il microfono? Ok, perfetto. Bravo Luigi, bravi anche a tutti i componenti di questo gruppo, tutto dal vivo ragazzi, musica tutta dal vivo. complimenti, allora avete bisogno di un po' di tempo per togliere gli strumenti?